Eccoci con Renato Rosi nello stand della omonima azienda Rosi. Buongiorno Renato. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, come va l'azienda? Molto bene, abbiamo chiuso un bellissimo 2018 con una buona crescita, anche il 2019 è partito molto bene, sempre ci proponiamo al mercato con un catalogo sempre più completo e sempre con dei prodotti che cerchiamo di realizzare per differenziarsi un po' dal prodotto standard al suo mercato. Non c'è dubbio che i vostri prodotti stupiscono, di fatti quando pubblico le vostre notizie sono sempre molto incuriosito perché dico che cosa si è studiato questa volta. Mi fa molto piacere questa cosa, molto piacere e noi vogliamo dare questa attesa ai nostri clienti e tutti gli anni cerchiamo di veramente di stupirli e di uscire con qualcosa di innovativo. Bene, e allora non ci resta che chiedere qual è l'ultima pensata? Diciamo che sì, l'ultima pensata è un prodotto che presentiamo appunto in questa fiera di Barcella, è un prodotto dedicato al mondo industriale, dunque alla spionateria industriale. si tratta del restyling di una presa interbloccata, una presa interbloccata molto usata, molto comune, dove siamo andati a realizzare un nuovo stampo con un nuovo design e abbiamo aggiunto, diciamo che non è un vero brevetto questo, però è una novità sul prodotto innovativo che non ha nessun altro. Noi abbiamo inserito in questa interbloccata nella parte interruttore, nel parte interruttore rotativo, un inserto bicolore, bicolore per far sì che quando si utilizza la presa che è montata in mezzo ad altre 4 o 5 prese, si viene subito all'occhio se la presa è accesa o spenta, se la presa è sulla posizione 1 o la posizione 0, cosa che tutte le altre interbloccate sul mercato, comprese le nostre, non è facile da vedere, diciamo. È una piccolezza però molto comoda per gli elettricisti e per l'utilizzatore finale soprattutto capire in che stato è la presa in quel momento. Detto dell'ultima novità, voi un certo numero di news al mercato le date ogni anno e quindi adesso dove vi spostate? Qual è la prossima pensata? Allora, questo è un prodotto novità ma non è l'unico di quest'anno, sicuramente penso entro l'estate. Non svegliamo piani segreti? Assolutamente no, non possiamo, non vogliamo, entro l'estate sicuramente usciremo invece con un prodotto veramente, veramente innovativo, sempre logicamente nel nostro mondo e nel nostro catalogo. Ma è lei che li studia? Assolutamente sì, non da solo però siamo noi, diciamo, io e la mia squadra.